Ladri d'auto senza scrupoli in azione a Termoli, dove ieri sera in zona bingo, in un orario tra le 19.30 e le 22, hanno portato via una Fiat Doblò grigio metallizzato. Non si tratta di una macchina qualunque, ma di una macchina speciale, come chi fino a ieri c'è salito sopra, e cioè Fabrizio Di Bernardo, 44 anni e affetto da sclerosi multipla, una malattia contro cui lotta da 27 anni e che lo costringe su una sedia a rotelle. La vettura attrezzata con una pedana a montacarichi era l'unico mezzo che permetteva a Fabrizio e a sua mamma gli spostamenti necessari, compresi i viaggi per andare al lavoro. Perché Fabrizio a Termoli e non solo lo conoscono tutti, ha una grande passione per la musica che lo accompagna da quando era ragazzo e che è riuscito a trasformare in un lavoro, il DJ, DJ Bubu, questo è il suo nome d'arte. Due settimane fa, per esempio, è stato a Campobasso dove lo hanno chiamato per mettere la musica a una festa, spostamenti che ora non potrà più fare. La notizia della sua auto rubata ha fatto il giro dei social con centinaia di condivisioni su Facebook e con tanta indignazione per un gesto che ha privato Fabrizio della sua libertà. Che significa per te non avere la macchina adesso? Per me la macchina è tutto, insomma. In che senso? Per me e per mia mamma specialmente. Perché? Perché io per uscire, visto che vivo solo con mia mamma, mia mamma ha anche una certa età. Quindi non è che mi posso spostare, anche per una questione di autonomia nostra, per non chiedere niente a nessuno, per poter uscire poi una macchina, la uso, diciamo quando, che ne so, voglio uscire da Termoli per andare a Campobasso o per andare, che ne so, a vedermi in un concerto fuori, visto che sono amante della musica, lo sanno tutti, ma se vado a mettere i dischi o a Basto o a Campobasso ci posso andare. Poi mia mamma la usa quotidianamente per andare a fare la spesa e tutti i servizi, per andare all'ospedale a prendermi le medicine, quindi per noi è importante, di più direi. Che cosa pensi delle persone che hanno rubato la tua macchina? Ma guarda, ti dico la verità, non lo so, io non so che pensare, perché io personalmente non riuscirei mai a fare una cosa del genere e non mi riesco a sentire, boh non lo so, non saprei che dire. Sono abbastanza, diciamo, una delle parole più brutte è schifo, secondo me, schifato. La macchina, tra l'altro, era stata un regalo, di chi, dei tantissimi amici di cui è circondato Fabrizio, ma anche di persone che non conosce, che però dieci anni fa hanno partecipato a una gara di solidarietà che in una sola sera ha permesso di raccogliere 15.000 euro, a cui la famiglia di Fabrizio ha aggiunto altri 8.000 per comprare il doblò attrezzato. Per me farete la beneficenza, io preferisco farla di persona, come quella che mi viene fatta a me, cioè i miei amici sanno che per me la macchina è qualcosa di essenziale, allora loro mi hanno organizzato una festa, mi hanno, diciamo, regalato la macchina, e quindi più beneficenza di questo, insomma. Che emozione hai provato? Grande emozione, forza, qualcosa un po' di indescrivibile, insomma. Chissà se anche adesso scatterà una nuova gara di solidarietà.